Oh, ma chi sei? Che vuoi? Che c'è sta a fa' qua a casa mia? Ciao Cristiano, sono l'Arcangelo Gianluigi. Volevo dirti che la finale di Champions non dovrai giocarla, se no ti succederà qualcosa di brutto. Ma non ci pensa proprio, a gioco sicuramente potesse cascare mona. Ah sì? E se ti dico che qualcuno potrebbe rapire il tuo figlio? Mi sembra un'ottima idea, a che ora passano? Così io faccio trovar pronto. Ah sì? Sei un insensibile. E se ti dico che potrebbe succedere qualcosa di brutto alla tua macchina? No, no, il pandino non si dubbia. Esatto. No! Oddio, ma era sott'alto un sogno. Meno male. Oggi tutti a Cardiff, tutti a Cardiff, tutti a Cardiff. Fa' mostrare le chiappe chiare. Dagli, chicco, che ti manna a Cardiff. Sbrigati. Papà, na in golana ha detto che gli fai la tripletta a Juve. E calla. Oh madonna, fammi da una grattata, va. Se non vinci stasera, lo sai che ti faccio Champions League in faccia e quando ti passa? Se porti zella di smolegolo. Colazione da campioni. Tutto pronto. Mo me lavi i denti. Andamo! Papà, piavamo la banda. E certo, mica potevamo fa' brutta figura, chicco. Dai, eh. Battisto 5. Papà, ma te sai dove sta a Cardiff? Ma che ne so io? Mo io chiede ma svetlana. Alla rotonda prendi la seconda uscita. Ma che sta a dire? Te vanno a dritta a piar accordo. Ah, ricalcolo. Gira a destra. Ma che sta a dire? Così hanno a marmare se gira a destra. Gira a destra. Ma che sei matta? Trovamo tutto un casinato su qua via. Lascia sta. Hai rotto le palle? Fai un po' come minchia ti pare. Papà? Dimmi piccolo. C'è uno strano personaggio fuori il finestrino. Il caccio è la mia vita. Cento volte meglio della fi- Madonna che botto. Ma chi ci ha messo starbero qua? Finalmente il carattere, zio. Salve, sono il meccanico migliore del mondo. Sempre dopo di me, accioghina. Capo, insomma. Dopo un attento controllo, devo dire che la macchina è rotta. Mi dispiace, ora devo andare alla partita. Volevo dire a casa della mia famiglia. Ciao. Divà. Papà, quel meccanico mi puzzava un pochetto. Eh, ho sentito che puzzava. Ah no, nel senso... Vabbè, mo come famo? E niente. Mo ci arrivamo come i poracci. Aereo privato e sposta poveri. Salve, sono il capitano dell'aereo. Fuori c'è un bel sole. Faremo uno scalo a fiumicino per magnarsi e tu spaghi. Buon viaggio. Oh, stess, portaci un altro litro. Bubù. Bubù. Ci ha resettete. Ma quale è Rolando? Boiade. Belli chicchi, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale. Un ringraziamento speciale dagli autogall. E se vediamo al prossimo video, mi raccomando, sfonnate dei like. Belli chicchi. Ciao.